Ben ritrovati gentili telespedatori, una nuova edizione del telegiornale del Veneto orientale. In apertura torniamo a quella terribile notte in cui la Greenfield Tower di Londra aveva preso fuoco al quarto piano a causa di un incendio di un frigorifero. Ebbene da quel incendio di quel frigorifero al quarto piano la Greenfield Tower andò completamente distrutta, 72 le persone che hanno perso la vita in quel terribile incendio fra cui i connazionali, i due architetti Marco Gottardi e Gloria Trevisan, loro che avevano cercato a Londra la loro vita, la loro speranza, la loro voglia di fare famiglia. Ed è lì che invece hanno trovato purtroppo la morte. A distanza di due anni e mezzo si scopre che ci sono state diverse negligenze in quella terribile tragedia. Lo dice lo stesso papà di Marco, Giannino Gottardi, il quale ha spiegato cosa è emerso dalle indagini. Ora c'è la prima fase, è conclusa parte la seconda fase di questo processo che si preannuncia lungo. Allora sentiamo quali sono le novità nelle servizie di apertura del nostro telegiornale. La verità sulla morte di Marco e Gloria, i due architetti veneti morti nell'incendio della Greenfield Tower di Londra il 14 giugno 2017, sta scritta in 856 pagine. È il faldone che Martin Moore Bick, il giudice in pensione come perito dell'autorità giudiziaria, ha consegnato in tribunale per la prima fase del processo. Ed è lì che emerge come, secondo l'ex magistrato, vi siano state infinite negligenze, costate la vita a 72 persone. Nel rapporto i punti salienti della tragedia sono due. Primo, l'inadeguata preparazione dei vigili del fuoco. Ci si domanda per quale ragione la London Fire Brigade abbia ordinato alle persone di restare dentro invece di evacuare l'edificio. Le chiamate al 999, l'equivalente del 112 italiano, sarebbero state inizialmente sottovalutate. Martin Moore Bick, l'ex giudice della Corte Suprema, coordinatore dell'indagine, afferma di avere pochi dubbi sul fatto che ci sarebbero state meno vittime se l'ordine di evacuazione fosse stato dato attorno alle due di notte. Secondo la ristrutturazione della torre, appunto, questa non sarebbe stata eseguita con materiali consoni. In particolare, l'uso del polietilene avrebbe accelerato la combustione e reso più difficile neutralizzarla. Dopo due anni e mezzo dalla tragedia, lunedì è iniziata la seconda fase del processo, spiega Giannino Gottardi, il papà di Marco. Purtroppo, da quando ci hanno comunicato, sarà altrettanto lunga. Non stiamo cercando vendetta. Chiediamo giustizia. Dalla prima fase dell'inchiesta è emerso un quadro di assoluta negligenza sul restauro della torre, che da poco si era concluso, ma anche di mancanza di preparazione dei pompieri. A Londra mancavano anche mezzi e le squadre all'inizio non sapevano dove intervenire. Ancora emerge che nessun allarme antincendio si sia attivato e che le scale di sicurezza non c'erano. Abbiamo scoperto che le norme inglesi sono ben diverse da quelle italiane. L'avvocato Fabio Pinelli di Padova, che assiste in Italia a Giannino Gottardi e la moglie Daniela Burigotto, è in costante contatto con il collega Attilio Cheso, che lavora nella City. Cheso, a sua volta, deve interagire con un collega inglese nominato dal giudice, che ha accettato solo dieci legali per i parenti delle vittime. Intanto c'è uno studio legale statunitense che sta lavorando su un altro aspetto della vicenda. È negli Stati Uniti, infatti, che è stato prodotto il frigorifero, che ha scatenato l'incendio di Londra ed è sempre negli States che sono stati prodotti i pannelli isolanti installati per la ristrutturazione del grattacielo. Ancora cronaca, andiamo a Santa Lucia di Piave, dove un uomo ha avuto un trascorso di certo burascoso, tanto da finire poi agli arresti. Di fatto, però, può andare a lavorare, ora la sua situazione è cambiata. Lavora, ha trovato un'occupazione, tanto da spostarsi con i mezzi pesanti, con i camion, solo che ha dovuto fare un percorso nonostante fosse ai domiciliari. Allora ha chiamato i carabinieri, ha avvisato, guardate, devo uscire per lavoro, va bene, gli hanno detto. È stato fermato però dalla polizia stradale e per lui sono arrivati i guai. E valso dagli arresti domiciliari per andare a lavorare, anzi, prima di farlo ha anche avvertito i carabinieri, è la singolare storia di James Meru, 44 anni, ex ragazzo terribile di Santa Lucia di Piave, che dopo aver inanellato una serie di condanne per reati come oltraggio, resistenza e un pestaggio, ha cambiato stile di vita e ha avviato una dieta dei trasporti. La giustizia, come dice suo avvocato Alessandro Michielan, è lenta ma inesorabile. E dopo 13 anni la Corte d'Appello di Venezia gli ha mandato il conto paralizzando di fatto la sua attività lavorativa. L'uomo sta scontando gli arresti domiciliari, un accumulo di pene, e dal Tribunale di Sorveglianza aveva ottenuto l'autorizzazione di andare a lavorare e a spostarsi con il camion in tutto il Veneto. Il perno del messo valeva fino al 20 gennaio. Meru ha cambiato legale proprio a ridosso della scadenza. Mi ero già attivato per il rinnovo dell'autorizzazione, ha spiegato Michielan, e soprattutto per far valere un aspetto logistico. Poteva andare a Verona, ma non a Pordenone, che da Conigliano dista solo 50 chilometri. L'unedì mattina Meru si è ritrovato da solo in azienda. Doveva inviare un camion all'interporto di Pordenone. Come fare? Ha chiamato i carabinieri comunicando che sarebbe andato a Pordenone. Va bene, gli hanno risposto. Ha raggiunto l'interporto, ma quando ha imboccato l'A28 si è imbattuto un controllo stradale della polstrada di Pordenone. Ha subito spiegato la situazione in cui si trovava specificando di aver informato i carabinieri prima di mettersi alla guida del camion. La telefonata in caserma in effetti è stata accertata, afferma la difesa, ma non il contenuto. L'evasione resta, Meru è stato arrestato ed è stato processato per direttissima, su richiesta del PM Andrea del Missier. Il procedimento è stato chiuso con un patteggiamento davanti al giudice Piera Vinotto. La pena è stata quantificata in otto mesi. Per il momento Meru torna ai domiciliari. Potrà andare a lavorare, ma dovrà restare in magazzino, finché l'autorizzazione a condurre il camion non sarà prorogata. Che abbiamo pagina? Parliamo di Confindustria Veneto-Venezia-Treviso, che sta puntando a formare i manager, insomma una scuola per riuscire davvero ad arrivare all'obiettivo. Sentite allora il servizio. Più manager per piccole e medie imprese, uguale successo, è il progetto lanciato da Confindustria Venezia-Rovigo in collaborazione con Feder Manager e Form Manager, attraverso il quale permettere alle imprese di sviluppare specifici settori aziendali e mantenere elevata la propria competitività nei mercati nazionali ed esteri. Ciò avverrà attraverso l'affiancamento gratuito di una figura dirigenziale per un periodo di 30 giorni con specifiche soft skills in materia. Le soft skills che sono richieste dalle piccole e medie imprese derivano tutte quante dal mondo dell'innovazione tecnologica, della digitalizzazione e dei problemi di mercato, compresa l'internazionalizzazione. Alla figura specifica del manager una piccola e media impresa cosa richiede? Richiede quel contributo al cambiamento, un cambiamento sia di modello organizzativo, di tecnologie, ma soprattutto di mentalità e di approccio. Indica il bisogno e indica il fatto che siamo sulla strada giusta quando qualche settimana fa abbiamo avviato una task force interna alla nostra associazione per gestire i fenomeni e favorire i fenomeni di aggregazione attraverso reti o filiere di piccole e medie imprese e con il passo odierno riteniamo di completare quello che è questo essere a fianco dei nostri associati. Dai dati del nostro osservatorio emerge con forza che circa il 50% degli imprenditori nei prossimi tre anni cercherà di rivolgersi a competenze manageriali. Per noi è un esperimento molto importante perché abbina al concetto della crescita dell'azienda, dello sviluppo della crescita competita dell'azienda, il concetto della rete, della filiera, perché questo progetto tende ad affiancare i manager anche alle aggregazioni tra le imprese. Qual è l'importanza di questo progetto nella prospettiva di fare rete? Crescere assieme per affrontare i mercati ed essere più competitivi a livello globale. E prendiamo ancora di cronaca giudiziaria in questo caso, andiamo a Portogluaro, molti di voi magari si ricorderanno quella aggressione ai danni di alcuni cittadini extracomunitari, tre migranti di fatto che si trovavano in Viale Trieste a Portogluaro e sono stati poi aggrediti da un gruppo di tifosi del Treviso Calcio. Ora quei tifosi sono finiti a processo, tra questi c'è anche il papà di un ragazzo e altri due giovani. Sentite allora il servizio, come è andata a finire. Ha ottenuto il perdono giudiziale il tifoso del Treviso che l'8 ottobre 2017 diede l'assalto assieme al padre e ad altri ultra bianco celesti, a tre immigrati africani ospitati in una casa in Via Da Vinci a Portogluaro. All'epoca aveva 17 anni. Quel giorno in calendario c'era la gara Portogluaro-Terviso e con altri tifosi in trasferta si allontanò dallo stadio per andare a cercare un bar. Dal supermercato Inks di Viale Trieste uscì un minorenne nigeriano richiedente asilo, fu insultato, picchiato, rincorso con una cintura e preso a calci. Furono aggrediti anche altri due immigrati che cercarono di proteggerlo. Grazie alle telecamere e alle targhe di tre auto che alcuni testimoni si erano annotati, le forze dell'ordine identificarono nove persone. Le loro strade processuali si sono divise. L'allora 17enne è stato giudicato dal Tribunale dei Minorenni di Trieste. Oltre alle lesioni aggravate, gli era stata contestata anche l'aggravante dell'odio razziale. Il ragazzo si è difeso, sostenendo di aver ricevuto una bottigliata in testa e di aver perso i sensi. Le tre vittime, con prognosi di 30, 15 e 10 giorni, e un paio di testimoni lo avevano identificato senza esitazioni. Adesso il ragazzo lavora e non è più rimasto coinvolto in episodi violenti. A processo ha ottenuto tutte le attenuanti. La punizione è stata cancellata dal perdono giudiziale previsto per i minori. Tre adulti di Santa Lucia di Piave, Ponzano Veneto e Treviso, compreso il padre del 17enne, sono stati citati a giudizio dal PM Monica Carraturo solo per lesioni aggravate e, per un solo imputato, lancio di tubi di plastica. Per una quarta posizione è stata chiesta l'archiviazione. Gli altri sono stati ritenuti estrani al pestaggio. I tre migranti si costituiranno parte civile al processo. E adesso parliamo di sport, di volley. La Invent Sandonà di fatto non ce l'ha fatta con il Trento, così come ci spiega tutto Cristiano. Pelizzano. Cozzottire, quarta di campionato, Invent Sandonà contro Unitrento. Questa sera altra partita trascinata al tie-break con due set giocati positivamente per ciascuna squadra, poi l'ultimo set ceduto a Trento. Parliamo dei primi set, dei primi quattro, molto altalenanti da entrambe le parti però. Grande recupero anche sulle percentuali di ricezione dell'Invent, quindi un punto positivo c'è per alcuni momenti su alcuni set. Sì, sì, le percentuali di ricezione sono buone, un po' altalenanti, però voglio dire loro hanno rischiato il servizio. Noi su un paio di situazioni ci siamo fatti trovare impreparati. L'analisi che hai fatto è giusta. Bisogna aggiungere che purtroppo abbiamo perso perché in attacco siamo stati davvero deficitari. con qualcuno e abbiamo provato a sistemare un po' le cose e non è andata. Loro quando ci hanno toccato poi hanno rigiocato bene. Noi abbiamo avuto degli sprazzi anche come difesa, come tocchi a muro molto buoni e basta. La mancanza sicuramente è stata l'attacco perché la partita è finita 3-2. Uno chiaramente non si spiega perché si vincono due set molto facilmente e poi si subisce invece gli altri. È un problema, noi abbiamo chiaramente tanta pressione per dover raggiungere assolutamente il risultato. Questo non aiuta ma ci devono fare l'abitudine. 25-19 secondo set, invece 25-15 il quarto set. Quindi comunque la prestazione c'è, la continuità sui prima e il terzo set è un po' mancata. A metà proprio del primo e del terzo set c'è stato un calo di prestazione della squadra. Sì, soprattutto perché abbiamo sbagliato qualche battuta in più rispetto ai set che abbiamo vinto, ottenendo pochissimi punti. E poi, momento importante, oppure eravamo a pari punti, eravamo sotto di due, non siamo riusciti a recuperare un po' perché in contraattacco abbiamo fatto tanta fatica e un po' perché loro hanno ricostruito bene qualche azione. Nel primo set, per esempio, abbiamo fatto un paio di ricostruzioni dopo difesa, abbiamo fatto il secondo tocco sbagliato, ma nel primo set l'unica giustificazione che posso trovare è quella di essere chiaramente un po' sotto pressione, molto tesi e quindi qualche tocco è stato errato. La settimana scorsa diceva che durante questa settimana avrebbe cambiato i ritmi in allenamento, ha portato i frutti alla luce delle prestazioni di questa serata o c'è qualcos'altro ancora da cambiare? No, no, ha portato i frutti per quanto riguarda la ricezione, un po' meno per l'attacco, abbiamo lavorato tantissimo, tantissimo davvero in attacco e quindi è solamente un aspetto mentale perché in attacco siamo andati bene anche durante l'allenamento, abbiamo spinto tantissimo, soprattutto mercoledì, giovedì e venerdì davvero tanto. Quello poi è un aspetto mentale perché bisogna accettare il fatto che di là c'è un avversario che può difendere e quindi cancellare mentalmente quello che è successo e provare a difendere anche noi. C'è stata qualche azione così, molto lunga, noi ne abbiamo vinte poche, la prossima volta faremo meglio sicuramente. La prossima volta sarà sabato, primo di febbraio, sarete in campo contro Pordenone che questa sera ha vinto 3-0 con Torino, quindi prendendo un po' di vantaggio su Invenzandona, con che atteggiamento vi porterete a Pordenone sabato? Una gara difficilissima, è in casa da loro, una buona squadra, sono venuti qui, hanno vinto, ci hanno messo davvero in difficoltà, l'atteggiamento deve essere quello di non avere niente per la testa, avere la testa libera anche dalla pressione di dover raggiungere il risultato, dobbiamo giocare fuori casa, dobbiamo affrontare questa squadra a viso aperto perché può essere una soluzione, loro hanno indubbiamente il fattore campo in casa, hanno il fattore punti in classifica a favore, chiaramente hanno un atteggiamento migliore di noi perché appunto privi di qualsiasi pressione. Per l'attacco modificerete qualcosa o continuerete l'allenamento che avete portato avanti questa settimana, visto che i frutti li ha dati? Sì, guarda, tecnicamente c'è poco da correggere, e mentalmente, io nello spogliatoio ho detto di creare ogni palla un'opportunità per fare punto, quando si è libero in attacco e cercare il campo per cercare il punto, prendere qualsiasi tocco indipendentemente dal fondamentale come una sfida tra noi e la palla, questo secondo me è la cosa giusta da fare, stasera sprazzi si è vista, soprattutto al tie break non abbiamo mollato, abbiamo fatto delle difese buone, ottime, delle azioni lunghe, noi dobbiamo continuare così e concretizzare però con il terminale d'attacco. I scatti dal territorio arrivano come sempre con Vinicio Scortecagna, andiamo a vederci allora una nuova foto di questo territorio del Veneto orientale. Grazie a Vinicio Scortecagna, grazie a voi tutti per aver scelto l'informazione del Veneto orientale, ci fermiamo con questa edizione, torneremo come sempre con le altre, vi ricordo che potete seguirci anche sulla pagina Facebook di Media24, grazie ancora per essere stati con noi e buon proseguimento con i programmi della Rete, a risentirci, alla prossima.